Il trionfo del calcio a 5 abruzzese per la prima volta nella pluridecorata storia del futsal della nostra terra arriva alla Supercoppa italiana e il secondo trofeo che da oggi viene esposto nella bacheca della famiglia Barbarossa dopo la Coppa Italia dello scorso marzo. Sei gol in casa della Luparenze che aveva soffiato lo scudetto al Palaroma lo scorso 11 giugno. Cinque mesi dopo la storia si rovescia con un capolavoro di grinta, tattica e personalità. Primo tempo dopo cinque minuti di studio Coco inserisce le coordinate sul suo navigatore e intercetta il pallone al posto giusto nel momento giusto. E suo il break che porta al vantaggio, palla recuperata a metà campo, qualche passo e poi assist sulla sinistra per uno spietato Leitao. Palla bruella mutolito, la squadra di Musti reagisce distinto arrivando al tiro con Onorio ma è sorpresa dall'ordine e dalla sicurezza dei Nerazzurri. All'ottavo la logica conseguenza dei due stati d'animo, contrastanti porta al giusto raddoppio, Calderolli ruba palla di nuovo a metà campo, scavino per De Oliveira che realizza il remake della rete di Leitao e sono due. Ma in campo c'è una sola squadra, anche il fattore del Palasport Veneto è azzerato dalla prova maiuscola del primo quarto di gara. Al nono era arrivato anche il tris da manuale segnato da Shoké per il 21enne ex Concordia, il primo gol in carriera nel futsal italiano servito da un intelligente Leitao. La ripresa viaggia su un binario prevedibile, la Ruparense deve fare di tutto per riaprire i giochi al più presto. A metà tempo Ruben ridaffiato al Palabruel, diventato nel frattempo un teatro silenzioso. Il tempo scorre via dal cronometro spietato e Musti si gioca il portiere di movimento a sette minuti dal termine. La mossa però non paga. Nerazzurri spietati e cattivi rubano palla e segnano due volte in 30 secondi, prima con Calderolli e poi ancora con Leitao. Borruto fa 6, giochi fatti. La Supercoppa è già ripartita, destinazione Abruzzo.